Allora, cambiamo argomento ma cambiamo anche approccio, nel senso che finora, per quasi tutto il corso, ci siamo preoccupati di come voler progettare o modificare o riprogettare un sistema informativo, diciamo custom, sulla base delle nostre esigenze, sulla base dei nostri processi, sulla base dei nostri utenti e così via. Quindi l'idea era ho delle esigenze specifiche, imparo a costruire perlomeno nella fase di analisi e di specifica un sistema informativo che risolva quelle esigenze specifiche. Dopodiché non vogliamo allo stesso tempo reinventare l'acqua calda, per cui è possibile che il tipo di sistema informativo che ho creato per risolvere una certa esigenza dell'azienda X possa andare bene con quasi nessuna modifica o con poche modifiche anche l'azienda Y e l'azienda Z che fanno cose simili. Questo semplice ragionamento, basato sulla di fatto riusabilità e la riusabilità è una conseguenza della similarità o affinità dei processi. Quando è che il sistema informativo che ho fatto per te va bene anche per me? Beh quando i miei processi di lavoro sono simili ai tuoi, se no di sicuro non si adatta. Se io prendessi il sistema informativo che gestisce gli studenti di università americana che funzioni in modo completamente diverso dalle nostre, di sicuro non funzionano per gestire le vostre carriere. Però probabilmente quello del Politecnico di Milano non sarebbe molto diverso dal nostro, magari sarebbe completamente diverso come facciata ma i processi sarebbero gli stessi. Questo per dire che i sistemi informativi sono rivestiti sui processi aziendali e quindi in funzione delle tipologie di processi che il sistema informativo gestisce esistono varie, qui sono chiamate famiglie, tipologie di sistemi informativi che a un certo punto hanno preso un nome, hanno preso vita propria, si sono trasformati molto spesso anche in prodotti di mercato. Ci sono certe esigenze dell'azienda che possono essere messe a fattore comune e dire va bene queste esigenze di quelle aziende e tutte quelle simili ad essa sono legate per sua natura a certi tipi di processi che si somigliano molto, sono addirittura identici, quindi si può pensare a un prodotto software, un sistema informativo generico, che poi l'azienda potrà comprare, adottare, utilizzare. Quindi sono nate una serie di tipi specifici, di istanze, di esempi, di sistemi informativi, ciascuno dei quali gestisce un pezzo, alcuni processi specifici che sono già pronti, prodotti da acquistare, da installare, alcuni in casi open source, in molti casi invece in abbonamento da qualche azienda che li prende, vi aiuta a customizzarli, installarli, gestirli. Questo fa sì che al minimo dobbiamo conoscere il panorama di questi prodotti che esistono in modo da poter poi valutare di volta in volta se ci può andar bene un prodotto esistente oppure dobbiamo veramente costruire un prodotto da zero, oppure molto più probabilmente partiamo da un prodotto esistente e lo dobbiamo estendere o personalizzare ai nostri scopi. Quindi cerchiamo di capire quali sono le principali famiglie di questi prodotti. Questo, se vogliamo, in parte questa chiacchierata, questo capitolo ha anche una componente tassonomica, cioè citarvi delle sigle, dei nomi di prodotti che poi si sentono in giro e non si può pensare che uno non sappia neppure cosa vogliono dire. Noi non entriamo nel dettaglio di cosa fa l'uno o cosa fa l'altro, perché per noi sono tutti tipi di sistemi informativi diversi, ma però cerchiamo di capire come si collocano tra di loro, a che livello sono e così via. Un modo di vedere i sistemi informativi è quello, questa figura l'avevamo molto velocemente accennata forse nella prima lezione, della piramide di Anthony, che dice che il sistema informativo, le caratteristiche del sistema informativo e dei processi che esso gestisce ovviamente sono sposate le due cose, si può declinare in termini di livello organizzativo, che è l'altezza della piramide, e di funzione aziendale, che è la base di questa piramide. Per cui per ciascuna funzione aziendale, e qui ci sono varie fette, ma poi ovviamente dipende al tipo di azienda, o i vari livelli, livello operativo, qui si è mangiata una parola, livello operativo, livello del management e livello strategico ad esempio. E in ciascuna di queste caselle, qual è il livello gestionale della funzione di accounting? Controllo di bilancio. avvengono certi processi. Qual è il livello operativo della funzione di manufacturing, informazione di produzione e controllo della produzione. Ingresso e uscita, calcolo di pezzi, costi di produzione, ordini commesse. Qual è il livello strategico della funzione di marketing? la definizione di nuovi aree, nuovi mercati, nuovi tipi di prodotti. In ognuna di queste caselle possiamo immaginare dei processi che avvengono all'interno dell'azienda e dei tipi di sistemi informativi che li supportano. Quindi Anthony diceva, guarda che il sistema informativo si adatta a queste due macro variabili, il livello organizzativo e la funzione. Poi però all'interno della casella, per quella funzione e per quel livello, di fatto la funzione non dico che è definita univocamente, ma è abbastanza ben circoscritta. Il fatto che sia una piramide e non un rettangolo o un prisma, insomma, che si stringa in punta, sta a rappresentare che man mano che salgo verso l'alto, la quantità di dati e di informazione che circola è sempre minore, è più sintetica. Infatti l'abbiamo visto, il problema vero dei sistemi di livello di management è riuscire a riassumere in pochi indicatori significativi il gran marasma che succede sotto i livelli esecutivi. Questo è un modo di vedere i sistemi informativi. Ha un po' un difetto che mette sullo stesso piano tutte le funzioni, mentre le funzioni stesse, alcune sono più specifiche, alcune sono invece più trasversali. Ad esempio la funzione di manufacturing ha senso in un'azienda produttiva, manufatturiera, non ha senso in un'azienda di servizi. La funzione invece di accounting ha senso per tutti. Per cui noi preferiamo per capire la collocazione dei sistemi informativi ragionare secondo queste tre grosse famiglie, quindi una rappresentazione diversa, grafica diversa della stessa cosa. Sistemi informativi primari, sistemi informativi per la gestione e sistemi informativi per il supporto, o per l'attività di supporto. E li disegniamo a T e questa T ci aiuterà poi a ricordare a cosa servono e dove sono messi. In qualche modo questa T ha due assi, uno verticale e uno orizzontale. e orizzontale significa trasversale, significa comune, significa uguale per tutti. Quindi quando parliamo di sistemi informativi orizzontali, e sono quelli che noi metteremo sull'assi orizzontale di quella T, quindi quello per la gestione e quello per il supporto, sono sistemi informativi che tendono ad applicarsi in modo piatto, paritario, orizzontale, livellato, a un ampio spettro di aziende, di casi, di settori, di dipartimenti. Sono funzioni comuni. Mentre invece il livello verticale, che è composto dai processi primari e quindi sistemi informativi per la gestione primaria, lo indichiamo verticale perché rappresenta la specializzazione. quel processo che in senso verticale avviene su questa azienda mia, dall'inizio alla fine, è poco generalizzabile, è molto specifico, quando si intende una soluzione verticale è una soluzione che risolve un problema, dall'inizio alla fine, ma quel problema lì non è applicabile a un problema diverso. Quando si invece usa il termine orizzontale è invece una cosa più generica che si applica a vari campi, a varie aziende, a vari problemi diversi. Allora, in questa T che cosa troviamo? Allora, i processi di management, ebbè sono quelli di cui abbiamo appena terminato di parlare, no? Quelli di cui scopo è quello di facilitare la guida dell'organizzazione. Quindi sono quelli che permettono di fare il controllo, la pianificazione, quindi definire gli obiettivi e verificare se sono stati raggiunti, controllare il corretto andamento dell'attività e così via. Qui dentro ricade anche la cosiddetta business intelligence, che va tanto di moda in questo periodo. No, la business intelligence significa, se non sbaglio avete anche un corso, forse l'anno prossimo per chi fa questo indirizzo su questo tema, significa cercare di estrarre dalla mole di dati che vengono prodotti a livello operativo, delle informazioni significative per i livelli più alti, in modo algoritmico automatico. Quindi se vogliamo è un passo di automazione rispetto a quelli che sono i KPI o simili, cioè è una serie di meccanismi che permettono di estrarre in modo intelligente, in modo automatico, degli indicatori che abbiano un senso di business da una marea di dati che hanno invece solamente significato operativo. Sono sistemi informativi di questo genere. Il ramo destro, processi di supporto. I processi di supporto sono quelli che forniscono, qui c'è scritto in basso, l'obiettivo, i servizi all'organizzazione, servizi comuni, gestione finanziaria, gestione delle risorse, gestione degli spazi, gestione del personale, gestione della logistica, gestione delle risorse umane, quindi assunzioni, ferie, stipendi. Sono tutti servizi che hanno un impatto indiretto sull'azienda, nel senso che sono necessari, ma non sono direttamente un aspetto produttivo dell'azienda, di supporto, o servizi obbligatori, quindi ci sono obbligatori per legge. certe cose che devi fare, devi fare il piano di sicurezza, devi fare il bilancio consolidato pubblicato, quindi sono funzioni dell'azienda che sono indirettamente di supporto alla produzione, non direttamente. Ecco, sia quelli di gestione che quelli di supporto sono abbastanza neutri rispetto al tipo di prodotto, ovviamente cambieranno in funzione del tipo di azienda, se sono un'azienda manufatturiera, un'azienda di servizi, un'azienda di formazione, un'azienda di media, giornali, ma alla fine la gestione delle risorse umane ci dovrà essere, e sarà molto simile, sono delle persone, devi assumere, devi pagare, devi formarli, no? Gestione del bilancio anche, cambieranno le voci, ma alla fine il meccanismo è lo stesso. Quindi riconosciamo che in questi due rami esterni dell'AT lì c'è una forte comunalità, somiglianza, tra le esigenze di aziende anche diverse. Mentre invece nel ramo verticale, quello centrale, i primari, sono i processi direttamente di supporto alla produzione e fornitura di prodotti e servizi. E allora è difficile fare degli esempi generali qua, dipende da qual è il mio prodotto, dipende da qual è il mio servizio. Quindi l'obiettivo è effettivamente gestire i processi che servono al cliente. Allora, possiamo già immaginarci che, se immaginiamo di avere un ipotetico catalogo di sistemi informativi esistenti, il ramo orizzontale dell'AT sia fatto di prodotti che sono applicabili in generale, il ramo verticale invece è molto più frammentato, perché va molto più nello specifico rispetto al tipo di aziende. e il ramo verticale si declina, si frammenta, si divide, si differenzia molto in funzione del domini di business, del tipo di business che viene fatto. Produttivo, processi, telecomunicazioni, finanza, banche e sicurazioni, commercio, vendita, utilities, quindi fornitura di acqua, gas corrente, materie prime, amministrazioni pubbliche, sanità. Ci sono alcuni esempi. È difficile, se studiamo i processi di gestione e quelli di supporto, escludendo queste, è difficile trovare dei processi comuni tra due aziende appartenenti, oltre due organizzazioni appartenenti a righe diverse di questo elenco. Quindi, i processi primari di un'amministrazione pubblica, rispetto ai processi primari di un'azienda manufatturiera, è veramente difficile trovare nei comuni. ciò che hanno in comune saranno i processi di supporto. Come dicevamo prima, la gestione del personale, comunque, ci sarà. Ma quella, non a caso, l'abbiamo messa come processo di supporto. Ecco, mentre allo stesso tempo, tra le organizzazioni o aziende che ricadono nella stessa voce, nello stesso dominio, invece c'è molta somiglianza. Poi ognuno è geloso dei propri processi, li fa meglio dell'altro, eccetera, eccetera. Però, in un certo senso, ci sono delle serie, non so, tutte le aziende manufatturiere avranno la gestione del magazzino, la gestione della produzione, la gestione dei lotti, la gestione delle distinte base e cose del genere, che producono pezzi di metallo o pezzi di plastica o pezzi di legno. Poi ci sono alcune aziende, ad esempio, sto pensando nel settore delle telecomunicazioni, invece è molto più standardizzato, i tipi di prodotti sono molto più definiti, meno variabili. Quindi, alla fine, fanno tutti la stessa cosa, nella parte centrale, diciamo. Questa è la definizione che abbiamo già dato di verticale e orizzontale. Ciò che ci rimane come verticale, quindi, sono i processi che sono legati alla specificità del servizio del prodotto proposto e non sono, invece, gli altri tipi di processi. Allora, con questa precisazione, con questo, diciamo così, bussola a tre direzioni, supporto, gestione e processi primari, cominciamo a dare un'occhiata a che cosa si trova, che cosa esiste, in termini di sistemi informativi, di tipi di sistemi informativi. non è che parliamo dei singoli prodotti venduti, ma di cosa ci aspettiamo di trovare come tipologia di sistemi. Processi di supporto, questa è una possibile tassonomia dei vari processi di supporto che ci possono essere. amministrazione, gestione delle risorse umane, sistemi informativi, i quali a loro volta sono a supporto del resto. Un'azienda che faccia, che non so, stampa di fotografie, ha come processo primario quello della stampa, ma avrà bisogno di un sistema informativo che gestisce la contabilità, ci sono gli ordini, ci sono le vendite, eccetera. Quindi il sistema informativo di per sé è un processo di supporto. Il sistema informativo in sé deve essere gestito. Non è che basta metterlo lì, le persone che lo seguono, lo progettino, eccetera. Così come la contabilità. È un costo, ma è un costo al servizio del processo primario. E quindi qua all'interno ci sono le varie esempi di funzionalità che ci possono essere. Ecco, più entro nel dettaglio di queste scatole, più mi accorgo che i processi diventano sempre più indipendenti dal tipo di azienda, dal processo primario che l'azienda sta svolgendo. E quindi posso immaginarmi di sistemi informativi per l'amministrazione, la gestione, la contabilità, ma li vedete anche, che non so, si sentono pubblicità in radio, ecco, che dice, ah, compri quello, paghi fatture e stipendi. Ci sono alcuni che, la standardizzazione di questo settore, ne so, fa sì che questi software siano venduti anche, faccio l'esempio, Buffetti che fa cancelleria, ha il loro software per fare fatture, paghi stipendi per piccole aziende. Tanto è standardizzato. Diventa un prodotto retail, non personalizzato, non personalizzabile, e non richiede personalizzazione. È chiaro che se devo fare la contabilità invece di un'azienda molto grande, dovrò prendere un prodotto di una levatura diversa che sia maggiormente adattabile. Va da sé. Così come la gestione delle risorse umane, anche molto, dipende ovviamente quanto conta, qual è il livello, le differenze la fanno molto a livello tecnologico dell'azienda, cioè se le risorse umane tendono a essere molto indifferenziate oppure se tende a essere importante la formazione, lo skill personale. Allora le meccaniche di gestione sono molto diverse. Se sono persone poco differenziate come skill, alla fine vanno bene queste funzionalità qui, dove la gestione e il planning sono quelle principali, chi mando dove, quando, poi quanto mi costano, eccetera. Diverso invece un'azienda che abbia una componente più di conoscenza, di know-how, la formazione, qui manca molto in questa figura della gestione delle risorse umane, la formazione e la riqualificazione del personale, che di solito dovrebbe stare sotto il cappello delle risorse umane. Magari sta sotto il cappello delle risorse umane dal punto di vista organizzativo, ma dal punto di vista del sistema informativo non è integrato. c'è il sistema informativo che gestisce le risorse umane, gli orari, i turni, le ferie, eccetera, le promozioni, i livelli stipendiali, tutto quello che vuoi, gli incentivi, ma poi non ti gestisce magari la formazione, quella lì viene fatta a mano. Viene fatta comunque ma non viene gestita da quel sistema informativo, anche perché è molto più specifica, è molto più difficile da generalizzare. Qui dietro ci vediamo la testa di produttori di software che dicono dove è che disegno il confine del mio prodotto, che sia sufficientemente piccolo da poter essere standard e applicabile a tante aziende, e sufficientemente grande da coprire un'esigenza non minuscola, da coprire un settore dell'azienda. quindi poi sono nati i prodotti che vanno a coprire queste parti. Questo signore qui è Pacioli, che è stato forse l'inventore del primo sistema informativo, ha inventato la partita doppia, questo signore, nel 1500 scarso, a 1400 erotti, ha inventato per la prima volta un modo standard di fare delle cose. Cioè ha definito, guarda, per l'entrata e l'uscita le segnaliamo così, ben due colonne e devono quadrare i totali. e da allora le cose si sono evolute molto, fino ad arrivare appunto agli standard internazionali, europei, su come deve essere dato il bilancio. Questa è la manna da chi fa un sistema informativo. Ti vende un sistema informativo per l'account, per la contabilità, che rispetta le norme. Se tutti devono rispettare queste norme, se io faccio il sistema informativo riferito alle norme, va bene per tutti. Quasi. Tutti quelli che non hanno delle esigenze particolari. E quindi, vabbè, poi ci sono varie tipologie di questi sistemi informativi per l'accounting e hanno varie funzioni al loro interno, ovviamente. Dipende verso chi è rivolta quella determinata funzionalità. L'accounting può avere un aspetto istituzionale, cioè la contabilità, così come la espongo, la faccio vedere, produco dati per gli investitori e per le autorità pubbliche. Faccio il bilancio, faccio le comunicazioni pubbliche, eccetera. Preparo le certificazioni, le pubblico. Diverso, l'avevamo già accennato prima, è invece la funzionalità di accounting per la gestione. Ma queste sono più difficili da standardizzare, quelle istituzionali invece sono totalmente standardizzabili. Così come posso avere invece un accounting compartimentalizzato, in cui separo la contabilità in funzione delle varie settori, verso i clienti, verso i fornitori, ad esempio verso i fornitori la parte di acquisto. Ci sono dei processi, questo per quanto riguarda l'accounting, la prima colonna di quella tessonomia che abbiamo fatto vedere. La seconda colonna è quella delle rosse umane. quante e quali persone mi servono. E quindi ho necessità di persone aggiuntive, devo assumere, devo ricercare persone, ho, brutta parola da usare sempre, esubero di persone, quindi devo riuscire a ricollocare le persone che ho in funzioni diverse. Quindi la pianificazione personale significa, rispetto al personale che ho oggi, il lavoro che dovrò fare domani, per il lavoro che dovrò fare domani il personale che ho oggi è adeguato? Va incrementato? Va ridotto? Va riqualificato? Cioè devi imparare a fare delle cose nuove? No? E questo è una delle funzioni della gestione delle rosse umane, al di là proprio della gestione dei contratti, delle risorse, eccetera. Ovviamente questa parte di amministrazione, ferie, stipendi, eccetera, c'è. No? Perché se vogliamo la parte essenziale. Ma non è l'unica. Perché l'insieme delle rosse umane non è un insieme costante. E poi c'è la parte di gestione, la funzionalità di gestione all'interno dei processi di rosse umane, che è tutta la gestione, oggi si parla di gestione delle competenze. Quali sono le competenze che sono necessarie a portare a gestire un determinato processo? Voglio fare un prodotto o un servizio. Quindi questo lo realizzerò con certi processi. Farsi di seguire questi processi, quali sono le competenze necessarie? E quindi, facendo ancora un passo indietro, chi ha queste competenze? Quindi le persone vengono un pochino viste come sacchi che contengono al loro interno delle competenze. Quindi possono essere spostati a seconda di cosa contengono dentro. Un po' brutta la visione gestionale, ma è questa. competenze che possono essere acquisite attraverso la formazione, attraverso l'esperienza, attraverso certificazioni esterne, che poi permettono a persone di, io scusate ma non riesco a usare il termine rosse umane, alle persone di essere impiegate nel supporto, nell'esecuzione di processi diversi. Questo è, se vogliamo, una delle funzioni del rosse umane. Dovrebbe essere, perlomeno. Poi, come processi di supporto, troviamo anche, dicevamo, l'information technology. Information technology, intesa sia come i sistemi informativi, i server, ma soprattutto oggi come l'office automation. Devo avere la corrente, devo avere la rete, devo avere il wifi, devo avere il pc, devo avere le postazioni, devo avere le licenze, affinché le persone possano lavorare. Una serie di requisiti di base, di minimo, poi ovviamente dipende dal tipo di azienda, ma l'infrastruttura tecnologica, informatico tecnologica, di supporto alle attività. E anche qua si può parlare di pianificazione, cioè che cosa mi servirà. L'anno prossimo, quanti nuovi pc dovrò comprare? Preferisco comprare dei portatili da dare ai dipendenti o dei computer fissi da tenere in ufficio? cosa devono farci? La produzione, ossia mettere in campo nuovi sistemi informativi, nuove reti, nuove macchine, e poi l'operatività, cioè mantenere vivo e funzionante ciò che c'è. Questo è un settore, chiamiamolo di nicchia, però di fatto in ogni organizzazione è necessario qualcuno che se ne occupi. non stanno lo su da sole queste cose. E mentre la parte di produzione, quindi deployment, messa in campo e di operazione, mantenimento in vita, eventualmente potrebbero essere subappaltate all'esterno, quelle di pianificazione si spera di no. E questo è un punto per darvi un'idea sui processi di supporto. I processi di gestione... Se vediamo c'è una domanda un po' interessante o provocativa, ma quanto sono automatizzabili i processi di gestione? Quanto sono standardizzati? Qual è l'algoritmo del manager? Il manager è una persona che svolge un certo ruolo come in catena di montaggio o ci mette nel suo? Un po' dipende dai casi in realtà. Vabbè, qui torniamo al discorso della piramide che ci fa semplicemente vedere i vari tipi di management, che è quello strategico e quello invece di controllo. Quindi controllo che tutto sia a posto. E se ci chiediamo, ma la tecnologia che cosa sta facendo? La tecnologia sta gradualmente permettendo l'automazione di funzioni partendo dal basso. Cioè l'automazione industriale tende ad automatizzare il più possibile dei livelli operativi. Riduce la necessità di personale che svolge funzioni operative, automatizzandole o con strumenti informatici o robotici, meccanici, eccetera. Ci sono ovviamente alcune parti che non saranno mai automatizzabili, però la tendenza è quella. Maggior efficienza, maggior controllo, maggior ripetibilità, minori costi. E poi ci sono anche i processi superiori, sovrastanti, in questa piramide, che in parte sono suscettibili di automazione, di essere mangiati dal sistema informativo o dal sistema IT in generale, dal sistema tecnologico. A parte il prendere la decisione finale, molti dei calcoli, delle valutazioni, dei confronti che dovranno essere fatti a livello di management, oggi possono essere sostituiti ad esempio dei sistemi di business intelligence, in parte, in buona parte, che in qualche modo preparano già tutte le informazioni per poter prendere decisioni. Mentre prima avere le informazioni era un lavoro in sé, riuscire a capire cosa sta funzionando, cosa sta facendo, cosa non sta facendo. C'erano troppi dati, dovevo gestire, dovevo le persone, dovevo avere i singoli caporeparti, parlarli, trovarti una volta a settimana, capire e poi dopo decidere. Adesso posso decidere sulla base di una manciata di dati, perché questi dati mi arrivano già sulla schivania. È un po' idealizzata, ovviamente, questa visione. Però è quello che sta succedendo in questi anni, in cui dall'automazione di fabbrica si sta arrivando all'automazione di ufficio, che non vuol dire automatizzare, togliere la macchina da scrivere e mettere Word, quello è già successo trent'anni fa. Significa automatizzare le parti, le attività ripetitive che avvengono a livello manageriale. Ai manager, ovviamente, questo non piace. Come non è piaciuto agli operai l'introduzione della robotica e dell'automazione. Vabbè, non mi interessa, cioè il discorso che stiamo facendo qua è un discorso ovviamente tecnologico e null'altro. Però l'introduzione di questi sistemi informativi per il management effettivamente comincia a mangiare parte di questi processi, a gestire da solo parte di questi processi. e comincia anche forse ad attaccare in un futuro non troppo lontano anche la parte di pianificazione strategica. Qualcosa che mi suggerisca quali prodotti o quali mercati conviene affrontare o in che cosa convenga investire. Se pensate a alcuni settori, come quelli finanziari ad esempio, banche, sicurazioni, cose di questo genere, questo livello qui di management già non esiste più. Cioè, fa tutto il software. Pensate ai software che investono in borsa in automatico. Hanno bisogno solamente di un po' di supervisione. e poi fanno da soli sulla base di algoritmi, dati, modelli matematici, eccetera. Cose che invece prima richiedevano tante micro decisioni, micro operazioni. Lì è più facile perché è più strutturato il business, il meccanismo. Quindi su questi processi gestionali che fino a non troppo tempo fa erano abbastanza esterni al sistema informativi, che non esistevano quasi l'idea di avere sistemi informativi per la gestione, adesso stanno cominciando via via ad espandersi. E quindi, come sempre, parti dal supporto e poi vai alla sostituzione. Prima il sistema informativo, il primo livello è di aiutarti a svolgere il lavoro che svolgevi prima e poi in parte se riesco anche a sottrarti del lavoro facendolo e automatizzandolo, cioè facendolo fare dal sistema informativo e automatizzandolo. Ad esempio, l'aiutarti era aiutarti nel calcolo e nella definizione di questi fattori. I critical success factor non li hanno inventati dopo aver inventato i sistemi informativi, c'erano già come tecniche di gestione, solo che erano molto più, sviluppati manualmente, erano più una tecnica appunto manageriale, strutturata, darsi una struttura nella gestione. La differenza oggi è che i dati ti arrivano già pronti. Prima invece bisognava un po' inventarseli e andare, diciamo così, in modo più qualitativo, oppure se uno voleva veramente i dati doveva sudare molto, faticare molto per ottenerli. E questo è essenzialmente il ciclo che viene gestito, ma lo conosciamo bene. Ecco, per tornare alla domanda, come dicevo provocatoria di prima, in quali casi si può formalizzare e formalizzare il primo passo per automatizzare un processo decisionale. Ci sono le teorie che dicono che le decisioni sono di vari tipi. Ci sono le decisioni non strutturate, che vengono prese in modo soggettivo, quindi senza poter essere formalizzate. Ci sono, d'altra parte, le decisioni che possono essere prese in modo algoritmico, ripetibile. Pensate a tutta la gestione di un magazzino. Tutto il mondo della logistica. Ormai è stato tutto algoritmicizzato. Quando devo comprare quanto, cosa, da chi, esce fuori dal programma. Mentre prima era un'arte, ormai tutte le decisioni che ci sono da prendere, per il 99% escono fuori da un algoritmo. Poi possono essere riterate, a mano, corrette, ma... E di fatto si tratta di fare supervisione a un algoritmo che fa il lavoro. Oppure ci sono decisioni che qui sono definite come semistrutturate, insomma, questi signori hanno definito come semistrutturate, in cui è chiaro, o è noto, è definito, è deterministico quale sia l'output, e sono in grado di descrivere il meccanismo, il modo, la regola con cui tu prendi la decisione, anche se non sono ancora capace a formalizzarlo come una formula, come un algoritmo. Nel 2015 è difficile distinguere per noi un algoritmo da una regola. Queste cose sono degli anni 70. Algoritmo significa che io sono in grado di disegnare, significa disegnare un diagramma di flusso, una serie di passaggi che mi portano al risultato. Una regola mi dice qualche cosa di definito, ma non così preciso. Qualcuno che mi dice, guarda, allora, se negli ultimi tre anni, o tre mesi facciamo, le vendite di questo prodotto sono andate via via aumentando, allora per favore pianifica l'aumento della produzione del 10%. A noi sembra un algoritmo. In realtà, per poter applicare questa regola ho bisogno di accedere a moli di informazioni, di dati. Cosa che quando questi signori hanno inventato questa classificazione non era possibile. non è neanche concepibile negli anni 70 poter avere accesso diretto a tutte le transazioni degli ultimi anni. Due, magari anche con dati di mercato, incrociarli, vedere. e quindi sapevi come farlo, ma per farlo ci serviva una persona che con giudizio riuscisse a leggere vari tipi di indicatori. Ecco, questa parte qua, via via, con la potenza e l'intelligenza maggiore dei sistemi di elaborazione, comincia a essere, diciamo così, gestita dai sistemi informativi. Beh, qui ci sono alcuni esempi ai vari livelli operativo, manageriale, strategico, quindi tra i livelli della piramide, di decisioni di tipo strutturato, semistrutturato o non strutturato. Come dicevo, il classico esempio di definizione strutturata è totalmente algoritmica della gestione del magazzino, delle scorte. Mentre una semistrutturata è l'acquisto e vendita invece di obbligazioni. Non basta la formuletta se è maggiore di x, devo avere un minimo di visibilità, criterio. Lo posso descrivere qual è il criterio, ma per applicarlo ho bisogno di molte informazioni, anche complesse, da incrociare. Quindi ho bisogno o di una persona che ci mette per ragionamento, oppure di un meccanismo, un algoritmo molto più complesso. Oggi parlano di big data, tutte queste cose qua sono tutte big data. Cioè dovevo tante informazioni, devo metterle insieme per sintetizzare. Oppure la parte operativa, io ho un giornale, un settimanale, devo scegliere la copertina. Ogni mese devo uscire con una copertina diversa. Che c'è di algoritmico di niente? È artistico, è una scelta radioazionale. A che cosa do importanza, come lo rendo, eccetera. Non c'è un generatore automatico di copertine del Times, per fortuna. E così via per i livelli più alti. Ecco, se noi andiamo a ragionare su queste parti, questa tabella ci dice sull'asse orizzontale quanto è strutturato il tipo di decisione. Strutturato, semistrutturato o non strutturato. Sull'asse verticale mi dice quanto è strutturato il tipo di informazione alla base delle decisioni che devo prendere. e quindi posso avere delle decisioni strutturate, facili, algoritmiche, che lavorano su dati totalmente strutturati, allora è totalmente automatizzabile. quello del magazzino. Ma potrei anche avere il caso in cui la decisione è strutturata ma l'informazione su cui lavora invece non è molto strutturata. Io so esattamente che cosa fare, ma qui dice l'accettazione del cibo in un supermercato. Allora questo va valutato però il cibo non ha dei parametri così quantitativi con il numero di pezzi, il peso, la qualità, eccetera. Quindi richiede, sono delle informazioni più complesse, meno strutturate e quindi meno facile da automatizzare. La macelleria del supermercato va a vedere le cose prima di accettarle, non le accettarle in automatico. E invece, quindi la decisione saprei come farla ma il dato, l'informazione che ho a disposizione non è così preciso, non è inquadrabile in una scheda. E viceversa, la parte di sinistra di questa figura rappresenta invece i tipi di decisioni che richiedono, che sono poco meno strutturate o poco strutturate e quindi in qualche modo sono o supportate ma non completamente rimpiazzate dal sistema informativo, quindi qui parla di open loop, il sistema informativo che fa una parte e poi c'è l'umano che finisce il lavoro, lo chiude o fornisce altre informazioni per elaborazioni successive, non è totalmente automatizzabile, oppure semplicemente non c'è nulla da fare. E quindi a livelli bassi cosa può fare il sistema informativo? Io di fatto fa gestione documentale, quando non posso automatizzare il processo o gestire il processo in alcun modo, perché i dati che ci sono non sono strutturati, non arrivano in forma informatica, eccetera, faccio il lavoro d'ufficio, archiviazione, gestione dei documenti, invio, ricezione, e così, protocollo e cose simili, che sono comunque funzioni di supporto, supporto ai manager, ma comunque mi limito a livello di supporto e di fatto non faccio nulla a livello manageriale. La decisione la prende il manager. Quindi, questo è un campo in crescita, perché cresce la capacità di gestire conoscenza da parte dei sistemi informativi, e la gestione della conoscenza è diretta a conseguenza della capacità di gestire molti dati, molte informazioni, perché purtroppo il sistema informativo, essendo un oggetto meccanico stupido, non può rappresentare la conoscenza in termini, diciamo così, intelligenti, so una cosa, so fare una cosa, ma la conoscenza per lui è l'analisi di un insieme, di una tendenza, di un insieme di dati che porta in una certa direzione. Ecco, la parte verticale, che è quella più variegata, dicevamo che è quella dei processi primari. processi primari, lo ricordiamo, sono diversi a seconda del settore aziendale, del dominio in cui l'organizzazione opera. ad esempio, se prendiamo quello, diciamo che è più facile da capire, quel settore manufatturiero, abbiamo dei modelli che sono ormai consolidati da decenni, ecco non posso dire secoli, ma ci siamo abbastanza vicini, di modelli organizzativi e operativi, sui quali si sono poi basati sia i sistemi informativi, che ci sono eventualmente anche degli standard di rappresentazione delle informazioni e dei processi. Quindi è un ambito altamente strutturato da questo punto di vista. un'idea di base può essere quella di adottare i modelli basati sulla catena del valore come base per costruire il sistema informativo che lo gestisca. il sistema informativo non parte mai da zero, parte da un processo, da un modo di fare le cose. Allora il modello della catena del valore parte da una visione a processi, ad attività dell'azienda e permette essenzialmente di modellare l'accumulo dei costi nelle varie trasformazioni che il prodotto attraversa fino a definire qual è il costo dell'esecuzione di un processo non necessariamente di tutto il prodotto ma di ogni singolo processo in modo da poter poi ragionare sul margine e quindi definire il prezzo di vendita del prodotto. Quindi questa è una figura che rappresenta una generica catena del valore generica perché si applica abbastanza anche se ovviamente come tutte le cose può essere personalizzata dove il costo lo vediamo come somma di due contributi attività primarie e attività di supporto entrambe costano le attività di supporto sono infrastrutture, retrosse umane, tecnologia, acquisti eccetera e le attività primarie invece sono le trasformazioni che in sequenza diciamo quindi il prodotto subisce dalla logistica d'ingresso quindi procurarsi e far arrivare le materie prime, le operazioni logistica di uscita e di consegna marketing e vendita e poi servizio post vendita tutti questi rettangoli si sommano e costituiscono il costo complessivo di un processo legato all'esecuzione di un processo a cui sommando il margine di guadagno ottengo ovviamente il prezzo quindi il valore finale di questo processo il valore che porta l'azienda ovviamente è questo margine qui se uso questo modello ho i sistemi informativi che possono partire da questi valori e ho il sistema informativo che gestisce la logistica d'ingresso e porterà fuori dei valori che sono relativi al costo al numero di pezzi e quali sono avrò una parte del sistema informativo che gestisce questo eccetera se un modello come questo che è abbastanza generale un pochino personalizzabile ovviamente dovrà essere perché dipende da quali sono i processi operativi se ne ho uno, se ne ho molti se faccio una linea di prodotti, se ne ho molte dovranno essere ovviamente personalizzabili ma a parte questo questo tipo di rappresentazione è in grado di gestire molti processi verticali nell'ambito manufatturiero perché proprio per definizione il manufatturiero è caratterizzato dalla trasformazione di materie prime in prodotti lavorati semilavorati o finiti quindi questo modello è stato definito apposta per questo tipo di settore aziendale l'organizzazione aziendale segue questo modello non è solo un modello concettuale ma poi i reparti dentro si chiamano così e quindi può essere usato come base concettuale per definire i sistemi informativi che si possono a questo punto occupare di ciascun segmento della catena del valore e specializzarsi questo viene chiamato application portfolio perché puoi avere un'offerta di vari tipi di applicazioni ciascuna delle quali si va a concentrare su un pezzettino della catena del valore se i pezzi sono quelli allora posso avere un modulo che si occupa dell'acquisto della logistica d'ingresso un modulo che si occupa della produzione un modulo che si occupa della spedizione eccetera messi insieme possono costruire una catena del valore comunque complessa che sia applicabile al settore manufatturiero poi magari non tutte le aziende hanno bisogno di tutti questi pezzettini o li sfruttano nello stesso modo è per quello che serve una modularità che possa permettere di avere applicazioni diverse per le varie fasi e ciascuna applicazione sia in qualche modo personalizzabile a livello di processo e adesso vediamo poi chi personalizza in modo che poi messi insieme siano in grado di gestire l'azienda nel suo complesso quindi anziché dire qual è il mio processo di produzione complessivo e costruisco il sistema informativo dico allora il mio processo complessivo è riconducibile a questo modello? sì se è riconducibile a questo modello io avrò varie fasi ciascuna fase può essere coperta da un modulo applicativo che è pensato specificamente per quella fase e quindi vado a cercare di mappare in qualche modo i miei processi con le funzioni offerte dall'applicazione questo vuol dire che in alcuni casi io avrò un'applicazione un modulo di un sistema informativo che mi va già bene perfettamente così com'è in altri casi lo dovrò adattare 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 cosa vuol dire? vuol dire che mi prendo un consulente che di solito è legato all'azienda che mi fornisce il software e gli pago tot settimane di lavoro per dire guarda che però in realtà questa cosa la voglio fare diversa e allora modifica il software in modo da da adattare il software ai miei processi oppure la terza possibilità è quella di adattare i miei processi a come funziona il software se io questa cosa l'ho sempre fatta così il software invece la pensa in modo diverso che ne so il processo scambia due fasi fa una prima dell'altra e mentre io la facevo al contrario mi cambia la vita cambiare il processo ma magari no allora alcune volte e purtroppo succede spesso che le aziende devono adattare i propri processi alle caratteristiche di un modulo software nel bene e nel male ovviamente chi vi vende il software vi dice che è nel bene ciò che fanno diciamo così i fornitori di questi pacchetti software e dicono guarda che il mio modulo di gestione della logistica in uscita implementa le best practices è una parola magica di fatto noi implementiamo queste cose con questo processo perché abbiamo valutato che questo processo in qualche modo incarna le best practices delle aziende che funzionano meglio e allora il nostro modulo abbiamo deciso di implementarlo così quindi il vantaggio che tu avrai nell'adottare questo modulo sarà quello non solo di avere un software che ti fa delle cose ma di migliorare anche il tuo processo perché poi il tuo processo seguirà sarà diverso da prima e sarà per virgolette migliore perché è adeguato alle best practices di mercato questo è il discorso che vi fanno quando ve lo vendono ovviamente ha un fondo di verità ci sono dei processi standardizzati per cui ha senso copiare da quelli che lo sanno far meglio facilmente standardizzabili è chiaro che invece ci sono dei processi specifici dove entriamo nel verticale del verticale dove il mio processo specifico allora mi dispiace o perlomeno non voglio questo allora dovrò richiedere per forza una personalizzazione i vari fornitori di sistemi informativi sono più o meno aggressivi da questo punto di vista hanno in qualche modo in mano il bastone e la carota o meglio due bastoni perché quando tu hai bisogno di un sistema informativo per coprirti un bisogno primario un processo primario e il modulo a catalogo che già ha un suo costo che ha fatto di tanti zeri non ti va bene al 100% non c'è bastone e carota ma c'è bastone 1 e bastone 2 bastone 1 cambia i tuoi processi bastone 2 pagami tanti soldi affinché io modifichi il sistema il modulo del sistema informativo e sapendo che la scelta che tu fai oggi te la terrai per i prossimi vent'anni minimo perché sia cambiare l'organizzazione sia pagare una personalizzazione sono operazioni che ti costano così tanto che tra due anni non ci ripensi ti costano in termini monetari ma anche in termini organizzativi quindi non cambio poi fornitore del sistema informativo il quale fornitore diverso avrà ovviamente dei processi leggermente diversi quindi dovrò ricominciare da capo diciamo che fa meno male decide di trasferire un'azienda da uno stato a un altro che non cambia il sistema informativo o decide di adottare un sistema informativo perché è pervasivo poi alla fine ogni cosa va fatta secondo quella logica ok la prossima volta entriamo più in dettaglio vedendo qualche esempio poi di come si chiamano questi moduli tenendo presente il ragionamento generale qui noi abbiamo ancora tre lezioni che userò appunto per fare esercizi e poi per riposarci gli esercizi finiamo un pochino questa chiacchierata cioè un pochino più leggera rispetto a me vi saluto grazie grazie